C'è un convitato di pietra al tavolo dei leader europei, non ha nome ma è a capo di una nazione di oltre 5 milioni e mezzo di ragazzi tra i 15 e i 24 anni attualmente disoccupati. Un'emergenza sociale che in un mercato del lavoro sotto pressione sta assumendo i contorni di uno scontro generazionale. Si pensi all'Italia dove il tasso di disoccupazione generale, superiore al 12%, impallidisce di fronte al 40,4 tra gli under 25. Il problema rischia di spaccare l'unità del vecchio continente se si considera che dietro alla media del 23,5% nell'Unione a 28 si nasconde il dramma di Grecia e Spagna, oltre il 50%, e la virtuosità di nazioni come la Germania e l'Austria sotto il 10. Differenze a cui bisogna rispondere con più integrazione, dice il capo della Commissione Giovani della Confederazione dei Sindacati Europei. Chiediamo un'Europa che si prenda delle responsabilità in termini di questioni sociali ed occupazione, non solo bilanci. Questa è l'Europa che vogliamo e che desideriamo per milioni di europei. Al cuore dei dispositivi con cui i leader europei intendono contrastare il fenomeno della disoccupazione c'è la cosiddetta garanzia giovani. Secondo quest'ultima, che dovrà essere declinata paese per paese entro fine anno, nessun ragazzo in cerca di lavoro dovrà restare oltre quattro mesi senza almeno una proposta di impiego o formazione. Ma per ora rimane sulla carta.